Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox e oggi siamo qua con Ebasta King Ema e mio amico e oggi ci stiamo sfidando in questo percour già che ci sono vi dico di andare al suo canale che si chiama ecco Ebasta King Ema non so perchè mai ha iniziato vabbè seguiamolo e niente ovviamente lui è mutato quindi non potrete sentire la sua voce ma potete sentire la mia visto che lui l'ha già fatto perchè credo che abbia fatto già un video quindi ora so i suoi colori quindi seguiamolo ok vabbè per ora è tutto semplice molto semplice qua stanno continuando è caduto è caduto non ti posso credere ciao io vado avanti vai vai perfetto va bene ora gli scrivo una cosa aspettate vado super avanti e guardate ora cosa gli scrivo mi fare qua ha scritto qualcosa? aspettami guardate allora ancora là vabbè qua ce lo devo aspettare per forza perchè è la prima volta io non so i colori da fare ok ci siamo facciamo questa parte e niente insomma e niente non sta andando avanti devo proseguire allora mi raccomando non morire salta salta ok ci siamo credo che è probab- non lo sapevo bel troll stavo dicendo che molto probabilmente lo finiremo tutto quanto in questo video perchè forse è un parkour abbastanza corto e quindi si si può fare lui dove sta andando ora? oh mio già lì su aspettate che un secondino così lo raggiungo lo raggiungo e niente perfetto sono caduto vi dico una cosa arriviamo a 5 like e se volete un altro video con lui vediamo se li raggiungiamo ok qua eh ok perfetto salti su queste cose che mi ricorda molto la modalità delle sky wars nelle bed wars ok gli ho detto di aspettarmi ok dai andiamo vediamo salti sui mattoni molto semplici ok sulla pizza eh vabbè quanta fantasia allora sul pollo eh ma che ah scusa io sono ho toccato l'osso e sono caduto com'è possibile? allora devo farla tutta così se però così salti larghi sono difficili ah devo saltare qua ok allora continuiamo rosso 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 ok qua vai avanti tu che io non li so vai avanti tu ecco lo sapevo lo sapevo era il giallo infatti era il giallo guardate e qua è rossa ok era il rosso quindi parkour sulle ossa molto facile ok quanto manca comunque alla fine non troppo eh non troppo forse verrà un video un po' più lungo del solito ma non manca troppo alla fine eh vabbè già di là e certo lui deve solo pensare a fare il parkour io no quindi facile no? ok saltiamo su queste cose sembra molto facile usiamo quasi alla fine bello bello ok qua su sembra molto facile sui sacchini proviamo in prima persona come viene eh ok ora devo aspettare vai vai ok perfetto scalinata oddio perfetto saluta gli angoli sono ci sto quattro ore ok perfetto siamo qua eh nanzi sono morto all'ultimo non ci credo ho il presentimento che questi scompaiono eh lo sapevo eh lo sapevo io so tutti i trucchetti del parkour tutti ne ho fatti talmente tanti che ne so tutti ecco guardate anche in che modo strano mi salvo ok qua sono salti un po' più difficili perché è molto sono molto alti non posso andare anche qua eh vabbè ma allora è facilissimo cioè che ci vuole allora dov'è ancora là dai che lo superiamo vediamo chi arriva prima alla fine io dai 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 che ci arrivo primo primo lo scrivo prima allora vediamo qua la speed no ho preso speed 25 speed 100 oh porca ecco sono volato fuori dalla mappa però c'era una cosa che mi sa che era bella aspettate rinasci ok saltiamo era questo qua no questo qua no non lo posso fare mi devo suicidare di nuovo cavolo ragazzi guardate che belle le cose arcobaleno guardate eh sono un zitto volo volo saliamo 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 e per concludere ragazzi saliamo altissimi quindi uno due e ok ragazzi secondo voi siamo abbastanza alti secondo me sì quindi facciamolo tre due uno buttiamoci oh mio dio ok oh mamma mia ragazzi volete fare un poco più alto uno più alto allora facciamolo e questo sì è il salto finale tre due uno addio mamma mia siamo siamo altissimi no dai mi ha rovinato il salto però ok ragazzi perfetto ce l'abbiamo fatta va bene ragazzi da me oggi è tutto intanto da me da Gingema e da questa palla cosa di palloni enorme è tutto e noi ci vediamo nel mio prossimo video ciao ragazzi ciao